Filippo D'Averio Pronto Filippo, ciao, sono Costantino della Grandesca, come va? Senti, no, c'è una roba veloce che ti volevo dire, stanno facendo un programma per bonsai e volevano farmi condurre a me, però sai com'è con la tv, la radio, la schiena e quindi mi dicono che non ce la faccio fisicamente, però siccome una cosa molto carina che parla d'arte, cultura, cinema, cose così, pensavo che forse te, insomma, saresti adatto ma molto più di me, quindi volendo ti metto in contatto con la produzione, sì Ah, ah, no, ma certo, no, no, ma capisco, vabbè, vabbè, senti, comunque ci vediamo a cortina, no, ecco, vai, ciao